ben ritrovati amici ogni tanto è anche giusto fare una chiacchierata giusto per raccontarvi le ultime novità che ho intenzione di imbastire o che ho già imbastito come in questo caso la prima delle quali per chi ha già visto gli ultimi tutorial che ho rilasciato avete notato come nella descrizione ho lasciato dei link a dei negozi europei per l'acquisto dei giochi siccome abbastanza spesso ultimamente mi arrivano dei messaggi privati che mi chiedono dove poter recuperare qualche gioco anche perché mettendo solo il link dell'editore è chiaro che un gioco solo magari dall'altra parte del mondo costa tanto in spedizione quindi ho deciso di cogliere la palla al balzo e di contattare alcuni negozi europei per cercare di collaborare anche con loro ne ho raggiunti tre che sono state anche molto disponibili nei miei riguardi visto che comunque parlo dei giochi stranieri e quindi oggi vi ufficializzo e da ora in avanti quando possibile nei link ai video che farò uscire solo per i giochi stranieri non per quelli in italiano vi metterò delle possibilità per l'acquisto questi negozi che li elenco perché tanto sono veloci uno è Pegasus che è il negozio dello stesso editore tedesco col quale collaboro ogni tanto che è molto incentrato sui giochi ovviamente degli editori tedeschi abbiamo anche Filosofer stessa cosa per quanto riguarda i giochi in francese o comunque di editori francesi mentre c'è non altro che Spells Pool che è un negozio olandese specializzato in editori nord europei e anche in produzione americana quindi in questo modo cercherò di darvi delle possibilità oltre a WIGA con cui collaboro sempre per fare il GA in questo modo avrete già dei negozi dai quali comunque andare a vedere se hanno i giochi di cui parlo sempre che vi interessino quindi spero in questo modo di aver aiutato voi voi nell'acquisto magari otterrete me in questo modo come sempre faremo un po' di supporto viceversa per quanto riguarda la seconda notizia ve la do alla fine del video perché come ogni vlogger si rispetti venga da mettere sugli occhi e si va di mosca cera allora giusto per rilogare le regole del gioco io sono già bendato sono uscito dalla stanza sono rientrato e la moglie ha preparato cinque giochi che già abbiamo giocato più uno ancora da aprire e devo cercare di indovinarli da bendato se ci riesco da solo faccio un punto se ci riesco con qualche aiuto mezzo punto se non ci riesco faccio zero l'ultima volta ho fatto 6 su 6 vediamo se ci allora scatolina abbastanza leggera e piccola solo di cartone senza rilevo andiamo a vedere o meglio a sentire cosa c'è all'interno qui sembra che si possa inserire qualcosa e questo è di plastica una lessidra queste sono carte carte quadrate nome codice grande io e andiamo con la prima partiamo col secondo scatola un po più grande dell'altra in formato oblungo cartone senza rilievo vediamo di beccare un componente caratteristico paginetta da sola non proprio il nome non è corretto è quello della dv con i numeri sì l'ho detto nella versione straniera dai abboniamola level 9 allora tra il gioco precedente e questo i giudici hanno deliberato che siccome l'ho detto giusto anche se in un'edizione non italiana mi vale comunque quindi siamo a 2 su 2 vediamo il terzo allora scatola sembra quadrata molto più pesante di quelli precedenti cartone ruvido quasi felato anche se non ci sono indicazioni di scritta in rilievo andiamo all'interno andiamo all'interno al regolamento si mette da parte queste sembrano sono 4 probabilmente sono blanche giocatore in cartone bello spesso un'altra forse non erano nel lancio dei giocatori inserto in plastica qui c'è qualcosa che sta in piedi e che è anche abbastanza alto sembra ok sta roba ah Sheriff si grande io 3 su 3 andiamo col quarto sto caloppando che sembro padenna allora scatola quadrata di quelle più grosse piena di roba che ciotola cartone normale senza segni di titoli o roba simile andiamo all'interno foglio di punteggio quindi probabilmente è un gioco a punti componente di cartone con delle incalature qui sembrano degli alloggiamenti per metterci qualcosa mentre si gioca stessa cosa un'altra 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 ma quante sono? questi sono storti perché sono storti? ah Solenia si grande io 4 su 4 ebbene gente siamo arrivati al quinto per ora nessun errore e sono anche andato veloce vediamo se si rimane in media dunque scatola una quadrata abbastanza pesantuccia copertina copertina di cartone senza niente in rilievo però abbastanza bassa mi sembra foglio di punteggio regolamento qui abbiamo un tabellone con un inserto in plastica all'interno già un'idea forse qui c'è un ricamo molto ben conoscibile se trovo un drago nel mezzo da qualche parte mi sa che ce l'ho clank si grande io 5 su 5 con quelli già aperti andiamo con quello da aprire ed eccoci a quello bonus quello ancora da aprire cominciamo a sentire un pochino la scatola che è di nuovo quadrata con un bel cellophane per liturgidi e anche abbastanza pesantuccia andiamo all'apertura col mio peggior nemico che è appunto il cellophane se mi riesce a doarlo ok è venuto via ah quanto l'oro quando fa così che brutto non lo sopporto io compro usato apposta per non lo vero che sofferenza per non fare questa cosa qua che poi più che mi dannoia più casino fa vai a vedere allora copertina liscissima però senza segni in rilievo del tipo andiamo all'apertura dove abbiamo una sacchettata di roba sacchetti grossi così di solito contengono tutti i componenti divisi in mini sacchettini come anche qui allora mettiamo che lavoro è questo sembra è bilinio intanto e non è poco ah è whistle mountain si grande l'ho riconosciuto già da questo è gigantesco mi levo la benda ah la luce niente anche questa volta ha dato il meglio di me 5 più 1 tutti indovinati e ora la notizia a breve diventerò babbo ma veramente veramente a breve e quindi potrebbe capitare che nei prossimi periodi i video escano con un po' più di ritardo non me ne volete però avremo una bambina da accudire vi dico già che non la chiameremo né perla né vitalina né lacerda questo per evitare commenti inutili io intanto vi saluto ci vediamo al prossimo vlog ciao